Prima di iniziare con il video di oggi, una cosa importante. La settimana scorsa abbiamo chiuso le iscrizioni al nostro minicorso gratuito. Il motivo è semplice, è in arrivo una grandissima novità e sarà un qualcosa che stravolgerà per sempre tutto quello che è Carisma Comando. E se vuoi essere sicuro di non perderti queste enorme novità, clicca nel link in descrizione e lasciaci la tua mail per seguire tutti gli sviluppi. Oltre a questo, ti consiglio però di dare anche un'occhiata al nostro profilo Instagram. Stanno succedendo delle cose strane ultimamente. Ma ora passiamo all'argomento del video di oggi, come rendere le tue storie interessanti. Se riuscirai a raccontarle nel modo giusto, ti accorgerai che le persone ameranno stare intorno a te e sarà molto più facile parlare di te stesso in modi più attraenti e interessanti. Allora, abbiamo già trattato alcuni di questi aspetti del raccontare storie nei nostri video su Scott Harrison e Kevin Hart. Ti lascio il link a questi video alla fine. Quindi, quello che vorrei mostrarti oggi non è come raccontare bene una storia, ma come fare per catturare l'attenzione delle persone con la tua storia, nonostante magari non sia molto interessante per loro. E per farlo ho scelto uno YouTuber americano molto conosciuto, Markiplier. Lui è un esempio fantastico di come fare per rendere qualsiasi cosa più interessante. E se non lo conosci, devi sapere che Markiplier è diventato famoso con il suo format Gioca con me. In sostanza, si riprendeva mentre giocava ai videogiochi. E come ben sai, ci sono decine di migliaia di persone che fanno la stessa cosa, ma lui è arrivato in cima grazie alla sua abilità di rendere interessante qualsiasi momento. E la prima cosa eccezionale che fa, e che gli permette di avere l'attenzione di tutti, è che prima di raccontare una bella storia, getta l'esca e aspetta che gli altri abbocchino. Prima di iniziare, lui usa una o due frasi per creare quel senso di devo assolutamente sentire cosa sta per dire. Ascoltalo mentre comincia questa storia in un podcast. Al contrario, il modo più veloce per creare un senso di devo assolutamente allontanarmi da questa conversazione è parlare alle persone di storie che non vogliono ascoltare. Per questo diventa fondamentale, prima di iniziare con la storia, creare un'anticipazione. Una frase come quella che hai sentito poco fa, che riesca ad intrigare le persone. La sua storia in particolare non è nulla di che, è una storia condivisa da molti di noi, di qualcuno che fa lo stronzo in un progetto di gruppo. Se tu ad esempio cominciassi la tua storia dicendo «Oh, mi ricorda di quella cosa che mi è successa al college», non avrebbe minimamente lo stesso impatto. Potrebbe sembrarti ovvio, ma presta attenzione oggi e fai caso a quante persone cominciano le loro storie dicendo qualcosa di blando come «Indovina cosa mi è successo oggi?» In alcuni casi ho persino sentito persone cominciare delle storie dicendo «Guarda, credo che non ti interessi, ma chi mai vorrebbe ascoltare una storia che comincia così?» Paragona questi modi di fare con quelli che usa Markiplier qui. Ora, chi non vorrebbe sapere cos'è successo dopo? È importante cominciare la tua storia gettando l'amo, con una frase d'anticipazione che crea interesse e curiosità. La seconda cosa che possiamo prendere da lui non ha nulla a che fare con quello che dici, ma come lo dici. Non ti sto suggerendo di arrivare all'estremo come fa lui, semplicemente prendi quello che stai attualmente facendo quando racconti una storia e aumenta la sua intensità. Noterai che sarà molto più facile mantenere l'attenzione di un gruppo e nello specifico, quando magari la tua storia è un po' lunghetta, usa tutta la tua estensione vocale e prova a cambiare anche la velocità con cui parli. Come vedi, non ha fatto nulla di esagerato, ha semplicemente usato la sua voce per rendere più divertente qualcosa che invece sarebbe stato noioso. Passiamo ad un'altra clip in cui fa ridere le persone. Ascolta le sue parole e basta, non ci sarà nulla di divertente eppure le persone ritono. Ti do un contesto così capisci al meglio la clip. Si tratta di una diretta di beneficenza che Mark ha fatto in cui cercava di indossare il maggior numero di magliette possibili. Se avesse semplicemente detto qualcosa come «Ehi amico, sta diventando troppo caldo», non sarebbe stato altrettanto divertente. E glielo vedrai fare anche nella prossima clip. Quella cosa di enfatizzare una parola allungandola e pronunciando la voce più alta è una tattica ricorrente che utilizza. All'apparenza sembra qualcosa di banale perché è qualcosa di davvero semplice, ma ti garantisco che rimarrai sconvolto di come ti aiuterà a mantenere l'attenzione di tutte le persone che ti ascoltano. Ora, andiamo su un altro esempio di come Mark rende qualcosa più interessante cambiando semplicemente più volte la sua voce. Devi sapere che più di 17 milioni di persone hanno visto questo video e più di 150.000 persone hanno messo mi piace. Ed è semplicemente un video in cui Mark clicca opzioni a caso e ne commenta il risultato. Lui è un intrattenitore. Nella vita di tutti i giorni non parla sempre così e nemmeno noi dovremmo. Ma quello su cui voglio far soffermare la tua attenzione è sul cosa fa per mantenere l'interesse delle persone e per rendere le cose più interessanti. Così che tu possa adattare tutto ciò ed usarlo quando vorrai fare lo stesso. Dovresti iniziare a variare i toni ed enfatizzare delle parole nelle tue storie e noterai che le persone ti reputeranno più interessante e divertente da ascoltare. Se non mi credi registrati mentre racconti una storia in modo monotono e poi registrati mentre racconti una storia in cui ti sembra di aver reagito in modo esagerato. Dopodiché confrontale e stabilisci quale delle due ti sembra più coinvolgente da ascoltare. Altra clip. Fai caso a come Markiplier usa le pause e le diverse voci. Pensa che alcuni studi portati avanti da degli scienziati dell'Università di Glasgow hanno scoperto che più sei monotono quando parli più attiverai la voce interiore dei tuoi interlocutori. Se sei monotono quindi perdi l'attenzione e le persone ti ignoreranno sostituendoti con la loro voce interiore che è più interessante. Un'altra cosa che fa spesso Markiplier è ispirare emozioni. Ne abbiamo già parlato in un nostro video vecchio su Piedipai. Ti lascio qui il link in alto e in descrizione. Ma ora ti faccio vedere un esempio fantastico mentre Markiplier fa tutto ciò. Il video che vedi ora sullo schermo ha più di 4 milioni di visualizzazioni e 50 mila mi piace. E come puoi vedere Markiplier addirittura non appare qui. All'apparenza potrebbe sembrare un video abbastanza noioso ma il commento che ti appare per primo sotto questo video la dice lunga ed è non ho mai riso così tanto nella mia vita. Grazie Markiplier il tuo dolore mi riempie davvero di risata e gioia. Ok, all'ora, here we go. Ok, checkpoint. Ok, 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 jump on the first one. I'm done! Ok, so, thank you so much for watching. Never suggest me another game to play over again. So, take this video, shove it up, the creator. Eccoti un altro esempio e fai caso qui a come sia molto più coinvolgente grazie alla quantità di emozioni che mette dietro le sue parole. Oh my God. Oh yeah, I.R. Deadite. Oh, I.R. Deadite was one of the first people to like really get into the Darkiplier fan art and oh my God. Yeah, I've seen so much of this stuff. Oh, they do such good work. Devi sapere che il cervello umano è impostato per prestare attenzione alle emozioni. quindi emanare emozioni forti cattura l'attenzione. Applica una versione anche meno enfatizzata di tutto ciò alla tua narrazione e le tue storie diventeranno immediatamente più interessanti. Ma come si può emanare più emozioni quando racconti una storia? Le tre cose principali su cui lavorare sono il tono della tua voce, le tue espressioni facciali e il tuo linguaggio fisico. Ma no, non preoccuparti, non devi diventarmi Leonardo DiCaprio facendo espressioni particolari o muoverti in maniera incredibile. Se esageri ti confondi e basta. La cosa fantastica è che in realtà sai già bene come comportarti quando sei arrabbiato, triste, felice, confuso o qualsiasi altra emozione. Tutto quello che devi fare per far accadere tutto ciò è pensare all'emozione che vuoi condividere e prendere la decisione di mostrarla. Non si tratta di recitare ma solo di permettere a te stesso di provare quell'emozione mentre racconti una storia ed esprimerla. Ovviamente emozioni diverse otterranno reazioni diverse. La rabbia quando è diretta verso qualcuno spesso porta ad altra rabbia ma come appena visto un po' di frustrazione può in realtà creare delle risate quando non è diretta verso di te. Un altro esempio che mi viene in mente potrebbe essere la tristezza che potrebbe creare ulteriore tristezza nelle altre persone ma può anche evocare un sentimento di empatia e vicinanza. Guarda come si emoziona qui Markiplier. Puoi capire che per tante persone che l'hanno visto la disponibilità di Markiplier nel mostrare le sue emozioni le ha fatte sentire più vicine e più connesse a lui. Ora lo ammetto probabilmente non vorrai fare una cosa del genere nei primi 5 minuti dopo aver incontrato qualcuno ma ho visto un esempio meraviglioso di tutto ciò nelle mie lezioni di improvvisazione qualche settimana fa. C'era questo ragazzo Jay che stava recitando un monologo creato sul posto parlava del cane della sua famiglia che se n'era andato. Cominciò a singhiozzare mentre parlava e aveva gli occhi pieni di lacrime e quando finì l'insegnante che è una persona particolarmente rigida gli diede un abbraccio enorme e io provai immediatamente un sacco di rispetto per lui perché si era mostrato in un momento di vulnerabilità e questo me lo feci apprezzare ancora di più. Detto ciò nella maggior parte dei casi l'emozione che vorrei esaltare sarà la felicità o l'eccitazione e il modo più semplice per farlo come avrai già capito è semplicemente emanare felicità ed eccitazione. Guarda questa clip e fai caso a quanto sia coinvolgente soprattutto grazie alle reazioni emotive di Markiplier Per molte persone è difficile se non impossibile non ridere quando qualcuno mostra così tante emozioni positive non importa di cosa tratti la tua storia ma sicuramente legioverà avere delle emozioni da parte tua condividendo le emozioni che hai provato mentre ripercorri quei momenti facendo un recap quello che dovrai fare per attirare l'attenzione delle persone mentre racconti una storia è primo gettare l'esca prima di tuffarti secondo usare tutta la tua estensione vocale e il tuo volume e terzo evocare emozioni nella tua storia se farai tutte e tre queste cose manterrai l'interesse della persona persino con una storia non troppo interessante se ti interessa approfondire questo tema del raccontare storie in maniera impeccabile devi sapere che abbiamo un modulo apposta nella Carisma University trovi il link qui in alto per questo video abbiamo finito ci si vede nel prossimo e preparati ad un'enorme novità e se vuoi essere certo di non perdertela ti conviene seguirci su Instagram e lasciare la mail trovi il link in descrizione ciao ci vediamo al prossimo video un abbraccio un abbraccio